La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di sua maestà il re Duce Supremo, l'esercito italiano, inferiore per numero e per meggi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile senace valore, condusse in interrotta ed asprichima per 41 mesi e vinta. Torneranno accolti dall'indifferenza e dal silenzio, pallidi, macilenti, con gli occhi spenti e le labbra livide. Torneranno sfiniti dalle fatiche e dai malanni. Sono spettri ambulanti, senza carne, senza energia, senza volontà e senza vita. E gli altri, fulminati dal piombo nemico, sono laggiù, sepolti in una gran fossa, sconosciuti e dimenticati, straziati e laceri, maldicenti negli spasimi della morte ai carnefici. Il nostro viaggio nella città della Grande Guerra si apre con le parole di Vittorio Messerotti, un anarchico che le aveva scritte poco prima che l'Italia entrasse in guerra. I socialisti, una parte dei cattolici e gli anarchici, erano contrari al conflitto. A favore erano soprattutto insegnanti e studenti delle scuole superiori, imbevuti di ideali risorgimentali ed affascinati dai temi dell'irredentismo. Molti di loro partirono volontari, convinti che la guerra sarebbe stata breve, esaltati dall'idea della bella morte sul campo dell'onore. Ma la morte nella Grande Guerra non fu quasi mai né bella né eroica. Alla nostra città costò quasi mille morti. Alla loro memoria sono dedicati il Monumento ai Caduti, qui alle mie spalle, e il Parco delle Rimembranze, un albero per ogni morto in battaglia. Aggiorni 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 Il Tempio Monumentale ai Caduti della provincia di Modena morti nella Prima Guerra Mondiale. Voluto dal Vescovo di Modena Natale Bruni, a cui è stato intitolato il Piazzale Antistante, si tratta dell'ultimo grande segno della memoria della guerra costruita in città. Dieci anni dopo il suo completamento, nel 1929, il mondo tornava a sprofondare nel baratro con la Seconda Guerra Mondiale. Non era la prima volta che si combatteva e non sarebbe stata l'ultima. A Modena, come altrove, a farne le spese fu prima di tutto la povera gente, come nelle parole di Bertolt Bracht. La guerra che verrà non è la prima. Prima ci sono state altre guerre. Alla fine dell'ultima c'erano vincitori e vinti. Fra i vinti, la povera gente faceva la fame. Fra i vincitori, faceva la fame la povera gente ugualmente. Anche questa volta le autorità si trincerano dietro il più rigoroso riserbo. Vecchi parla di avvistamento verso Verona. Vecchi dice, invece, verso Sant'Agata Bolognese. Ma può anche trattarsi di fantasie. Certo che la campana della Ghirlandina ha dato tre rintocchi d'allarme. Ed in moltissime case si sono rinnovate le scene di spavento del precedente allarme. La città era anche percorsa da numerosi gruppi di richiamati. Moltissimi di essi percorsero le vie, completamente immerse nel buio, cantando canzoni patriottiche e guerresche. E tratto tratto mandando grida di Viva l'Italia e da basso l'Austria. Esaltazione della guerra e paura per i suoi effetti. In questo articolo della Gazzetta dell'Emilia sono racchiusi due sentimenti opposti, entrambi presenti a Modena. Quando le campane della Ghirlandina suonavano a martello nel cuore della notte, i modenesi si svegliavano con il terrore di un possibile attacco aereo. Ma si trattò sempre di falsi allarmi e di esercitazioni. Nessun velivolo nemico sorvolò mai la nostra città. Con indicibile dolore per la suprema salvezza dell'esercito e della nazione, abbiamo dovuto abbandonare un lembo del sacro suolo della patria, guagnato dal sangue glorificato dal più puro eroismo dei soldati d'Italia. Siamo al Sacrario dell'Accademia Militare, appena oltrepassato il portone d'accesso. Sulle pareti si sviluppa il Lapidario, inaugurato dal re Vittorio Emanuele III in occasione della sua visita alla città nel 1929. È un elenco continuo di nomi incisi, quelli degli ex allievi caduti nelle varie guerre combattute dal nostro paese e tra queste, quelli della Prima Guerra Mondiale. Sopra il cancello principale, l'antico motto della resa accademia di fanteria e cavalleria. Preparo alle glorie d'Italia i nuovi eroi. Soldati a frotte, a crocchi, a gruppi nelle vie. Specie dove un'oasi d'ombra alletta fra l'abbaccinante candore del selciato percorso dal solleone rovente. Soldati nei caffè, che distendono interminabili teorie di tavolini sotto gli alti portici e lunghi marciapiedi, tra l'ondeggiare lento dei tendoni accarezzati da un filo di vento. Soldati in tutti i negozi, a comprare, a contrattare, a discutere, a corteggiare le graziose commesse. Soldati alla posta, al telegrafo, in tutte le case, tutte le finestre, in ogni luogo. Soldati, soldati, soldati. Sempre soldati. Niente altro che soldati. Per la cura e la rieducazione al lavoro dei mutilati e degli invalidi, sorse a Modena, nel Forboario, un centro di cura all'avanguardia. Motore dell'istituzione furono Mario e Pio Donati. Mario era considerato il miglior chirurgo tra le due guerre in Italia. Quando lo sollevamo dalla barella, lo liberammo dalle bende e dalle fasce. Gli togliemmo di dosso quella gran coperta scura, che ricopre sul campo ogni barella. Potemmo conoscere la sua sventura irreparabile. Era senza mani e senza occhi. Io non ricordo un mutilato che rassomigliasse a questo. Quando agitava i suoi monconi e portava in alto e davanti a sé quelle due braccia senza mani per afferrare l'irraggiungibile, noi tremavamo di stupore e di disperazione. Oltre all'esercito, la Grande Guerra richiesta l'aiuto dell'intera popolazione. Fin dal 1915, il Comitato di Difesa Civile di Modena raccoglieva tra i cittadini lana e indumenti per i soldati al fronte. E in questo palazzo, durante la guerra, si trovava la scuola comunale di calzature economiche, con circa 700 allievi. Molto trafficata, era anche la strada dietro il palazzo. In via Santa Margherita c'erano infatti ben due case di meretricio, frequentatissime dai militari della vicina scuola e molto sorvegliate dalla polizia. Così parlava il prefetto. Le meretrici che dimorano nei postriboli sono sottoposte a visita sanitaria due volte alla settimana. E nel detto spazio di tempo, si eseguiscono altresì le visite di controllo e di sorpresa. Le prostitute clandestine subiscono settimanalmente una visita sanitaria e quella di controllo. Le donne riconosciute infette vengono subito ricoverate nella clinica dermosifilopatica per la debita cura. Le prostitute di altre province vengono rimpatriate. La fulminea arditissima avanzata del ventinovesimo corpo di armata su Trento, barrando le vie della ritirata alle armate nemiche nel Trentino, travolte all'occidente dalle truppe della settima armata e all'oriente da quelle della prima, testa e quarta ha determinato ieri lo spaccielo totale della fronte avversaria. Un altro luogo dedicato all'assistenza era la sala del fuoco del Palazzo Comunale. È qui che si trovava la sede del Comitato Modenese per i Profughi. La presenza di tante persone provenienti da lontano e bisognose di tutto fu per Modena una grande prova che il Comune e il volontariato civile riuscirono a superare egregiamente, nonostante i numerosi problemi e la diffidenza verso i nuovi arrivati. Erano piccoli e grandi proprietari, professionisti, industriali, contadini, operai che mai avevano conosciuto a Penuria. Chiedevano pane, vesti, medicine, un letto, un lavoro. In quella sala del fuoco erano da mattina a tardanotte, venti, trenta persone che, dimenticando se stessi, tutto il meglio di sé davano per gli infelici che di tutto avevano bisogno. A presto, a presto, a presto, a presto, a presto. Una delle armi più forti sperimentate della Grande Guerra è stata quella della propaganda, per condizionare i soldati e l'opinione pubblica. Manifesti, cartoline, opuscoli, conferenze, persino spettacoli teatrali e concorsi a premi nelle scuole. Tutto serviva ad eccitare gli animi verso le finalità della guerra. Anche le mostre avevano questo scopo. Nel 1915 ne venne organizzata una con radiografie di lesioni ossee per far capire ai modenesi l'importanza pratica della scoperta dei raggi X. Nel maso del 1918 ai musei civici ne fu invece organizzata una fotografica e artistica. La grande mostra degli alleati ha magicamente trasformato il museo civico tanto da non riconoscersi. E ben 18 sale elegantemente allestite ospitano la preziosa raccolta. L'Inghilterra ha mandato 300 splendide fotografie. Le tanks, i mastodontici 380, i fulmine incrociatori, i palloni osservatori, eccetera. La Francia, 280 scene fotografiche nelle quali non si sa se più ammirare la bellezza del lavoro o la potente suggestività del soggetto. Ed il Comando Supremo ed il Ministero per la Propaganda hanno inviato 400 bellissime fotografie nelle quali il magnifico, meraviglioso cuore che non trema del nostro soldato rifulge sempre in mille svariatissime guisa. Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori